Venga, venga, eccola qua, tutta, vieni che ti fai vedere così, eccola qua Ma tu non me l'hai fatta vedere questa cosa qua, prima di venire in transizione, tutta coperta Allora, tre carini qua, via, grazie Opla, dunque Allora, lo lascio, attenzione al proprio prezzo finale, 31 grammi d'oro, attenzione, per le taiti strepitose, un carattere e mezzo di brillanti effe puri Lo portate via adesso, in questo momento, a 2.500 euro E ho anche gli orecchini eventualmente da abbinare, me lo tieni questo gioco Il discorso, il pendente l'ho pitato, rimani fidanzata Arianna, non fidanzati, rimani single Ma perché deve dire le bugie questo uomo? Può dire tutto Allora, cosa vuoi presentare? Per te, per Albertino Cosa vuoi presentare? Cosa hai preparato? Perfetto Volevo presentare le trilogi, non l'ho preparata alla fine perché sono ritornata al centralino Va bene, facciamo così, intanto che prepari le trilogi, allora alzati e prepara le trilogi E io presento questa Perché è tutto di là, uno deve fare questa vita, capisci? Eh, ma tu sei la cosa Sì, 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 mi devo andare a dire una cosa Vai a andare a dire una corsa Una corsa Vai a dire una corsa vado con... Dov'è? Mi stampo Allora Vai, 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 vai Vendente da 9,90 Un fiore Un fiore, è vero? Se ti sei calato oggi lo sei solo tu Sì, è un fiore, è una margherita è un'orchidea sembra un'orchidea io do ragione a Sasha mi dispiando si va regalati l'ho regalati adesso vi diamo anche la lunghezza allora vi faccio vedere un altro pendente vi faccio vedere il lotto numero 3 presentato proprio a inizio trasmissione è il pendente firmato Damiani l'ultima Chanel e questa vedi su questo scollo guarda è precisa è precisa Chanel è questa identica forma lunga un metro con un po' di sottotitoli